Ah, dimenticavo, scusate, ma già che ci siamo, ma famosa in giretta al teatro, no? Allora, il teatro olimpico, questo mica è, mica la parrocchia, guarda che roba, guarda che struttura, qui siamo in teatria dei Quinti, guarda che vedi, guarda che scenografia, no, sta davanti, guarda, davanti, che ti metti là? Guarda, guarda, ora entriamo nel teatro, oh, la paura, 1400 posti larghi, comodi, guarda, guarda che roba è te, guarda, guarda qua, 1400 posti, arredato ve lo do, 2005 al mese, che vometto, una sciocchezza, qui si svolgerà, tra un'oretta penso, lo spettacolo, cari amici miei, come dicevo, attenta c'è il cartone te fai male, qui succederà di tutto, qui tireremo fuori le mitiche ciriolette, che qua ne trovi più, mio padre mi diceva, sei fortunato come i cirioli, c'hai tu culi, ma questa è una cosa tra di noi, questo è un teatro importante e io forse ce lo sto anche indegnamente, però, insomma, inizieremo, gliela diciamo sta cosa, con un gioco che conoscete, tutte le sere su Rai 1, non vi dico di che si tratta, ma lo scoprirete più tardi, tutto qua, questo è il teatro, ha fatto cascare il cartone, ecco perché non te volevo a te, io me ne vado giù, qui si riempirà di gente con facce e teste diverse, chissà perché sto signore dovrebbe ridere, questo dovrebbe ridere, questo non ride malta a caccia, perché dovrebbero ridere per noi? Oh, ragazzi, ci vediamo dopo, ciao, ci vediamo, venite da dove, non ti ho visto, siete la strada? Grazie.